Allora, buonasera, facciamo un cambio di palco, vi invito ad accomodarvi, insomma a riempire questi posti che sono qui davanti a noi, innanzitutto salutiamo con un applauso caloroso un signor Vincenzo Paglia, benvenuti. Allora Don Vincenzo stiamo presentando, abbiamo una duplice funzione questa sera, la prima è la presentazione di Sorella Morte, la dignità del vivere e del morire, edito da PM, la seconda è un motivo di festa, ogni tanto è anche bello rendere omaggio e festeggiare, questo è anche uno degli obiettivi di Come il vento nel mare, che è il nostro festival di narrazioni e cultura politica. Noi abbiamo fortemente voluto presentare questo libro perché ovviamente si snoda intorno a degli interrogativi che sono un po' come il mare che abbiamo qui dietro, più grandi di noi, su cui chiaramente non abbiamo sempre risposte pronte, non abbiamo vie di indirizzo alle volte sempre chiare, il nostro animo è spesso confuso e soprattutto ci si pongono degli interrogativi forse mai posti prima, ovvero che cos'è vivere in modo dignitoso e che cos'è morire in modo dignitoso. La morte è diventata un tabù in qualche modo, però secondo me anche la vita vissuta a pieno è diventata un tabù, quindi ecco ci sono queste due grandi famiglie di tabù se possiamo dire, la vita e la morte, quindi dobbiamo chiederci cosa facciamo nel mezzo in queste due cose, questa è la ricerca di senso, ma soprattutto la prima domanda è perché la vita è diventata un tabù? Per sciogliere un po' il clima, sono contento di star qui perché quando mi chiamarono alla Università Cattolica di Milano a presentare questo libro, una sala piena di studenti, erano circa 300, io dissi dove è la sala? Nella cripta, ragazzi non siamo napoletani, siamo a Milano però comunque questo per dire che il tabù si allarga, quindi perché il tabù della vita? c'è questo noto filosofo ormai un po' anziano che parla del nostro tempo come il tempo delle passioni tristi, cioè neanche ci appassioniamo più di tanto, è tutto un po' a mezzasta, perché? Perché in fondo non ci sono più grandi sogni, grandi ideali, grandi mete e per cui ci si contenta di una vita che è scialba, spesso insignificante, con una sola vera unica passione, pensare a se stessi, punto. Questa prospettiva non è dignitosa perché non dà il gusto della vita e quindi anche della morte. Non dà il gusto di un'esistenza che ti riempie il cuore, la mente, il tempo, le giornate, che ti fa comprendere che la tua vita non è solo per te, ma che la tua vita è degna nella misura in cui frutta, nella misura in cui costruisce, nella misura in cui rende anche gli altri partecipi di questo progetto, di questo sogno. Ecco, in questo senso la tristezza, o meglio il non pensare alla vita in senso ampio, comporta anche il non pensare alla morte. Per cui la morte oggi è il vero tema pornografico. Non se ne deve parlare. Più si è piccoli e meno devono partecipare. e noi non abbiamo più tante parole. Tant'è che quando ci capita di dover assistere, non sappiamo che dire. Se sono familiari non sappiamo che dire. Che gli diciamo? Magari preferiamo un sms, così non c'è il confronto. Se sono altri, alla fine non se ne parla. Noi non ci pensiamo. Quindi l'assenza di parole crea una situazione, secondo me, molto strana. Fa crescere la paura, impedisce la capacità, tra virgolette, di governare sia la vita sia la morte. E allora può accadere come quest'evento, ne parlavo prima di questo povero Charlie, dove intervengono tutti. Interviene pure Trump. Poi magari ci stanno centinaia di bambini che muoiono nel Mediterraneo e non ne frega niente a nessuno. Qui si concentra. Ma abbiamo davvero l'interesse per il bene col bambino? È una domanda che faccio per far capire che quando non si hanno parole, siamo costretti a semplificare e la semplificazione di situazioni complesse ci fa sbattere. Ecco perché questo libro, io l'ho scritto, poi magari dirò perché, però certamente il legame vita e morte sono inscindibili e debbono essere compresi nella loro complessità. E ci vuole anche il vocabolario. E il vocabolario non ce l'abbiamo più. Neppure i preti. Voi andate a un funerale e io scappo. Io ai funerali non mi ci sono mai abituato. Io ai funerali non dirò mai che è volontà di Dio che uno muoia. Perché questa è la bestemmia. Però se non ci sono parole e non ci sono, non c'è consapevolezza, e tutto diventa veramente piatto. Ecco perché continuo a parlarne, sono contento di parlarne, nonostante che qualcuno ci dica ma voi alle nove di sera è stata parlata la morte, ma siete matti? E in effetti è un po' vero. Per oggi se non siamo un po' matti rischiamo di vivere piattamente. E soprattutto c'è questa grande differenza, ovvero che la morte in qualche modo fa paura, soprattutto perché la morte viene vissuta in solitudine, viene vissuta in chiara difficoltà. Spesso il dibattito pubblico si concentra sul fine vita quando ci sono ovviamente dei casi eclatanti, delle cose che ovviamente vanno sulle prime pagine dei giornali. Ma c'è un'emergenza, almeno secondo me, fine vita che avviene nei tanti ospizi, nelle tante case dove ci sono genitori abbandonati? Ti interrompo subito perché questa me me fa incavolare in effetti. Uno dei motivi per cui ho scritto questo libro è perché mentre si dibatte su alcune leggi c'è il silenzio totale sull'abbandono di malati gravi che pesano sulle famiglie e nessuno se ne prende cura. Perché tanto impegno a morire in dignità e tanto disinteresse a cercare di far vivere in dignità migliaia e migliaia di malati che pesano sulle famiglie per di più lasciate sole? Ecco, questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto. Io ricordo nel 1974 con la comunità di Sant'Egidio quindi parliamo di un po' di secoli fa noi trovandoci a Trastevere vedemmo la solitudine di tanti anziani e cominciamo a visitarli cominciamo a stare accanto a loro e così poi via via negli altri quartieri di periferia nelle altre città d'Italia oggi anche in Africa in Sud America ovunque il legame con gli anziani per noi è stato un arricchimento straordinario una compagnia che per noi significa non abbandonarli più fino alla fine come accadde negli anni 80 e poi 90 quando l'AIDS in Italia significava morte stare accanto a questi giovani per chi a Di Roma sa lo Spallanzani venivano messi in questo ospedale in un reparto separato perché infettivi chissà ma io stesso più volte sono andato anche il 31 dicembre a festeggiare con loro la fine dell'anno perché alcuni di loro non l'avrebbero più visto allora il desiderio di vivere di tutti costoro mi ha come ci ha come educati all'amore per loro anche nei momenti più difficili sapendo che certo arriva anche la morte come arriverà anche per noi ma il problema e qui brucio la domanda il problema non si risolve attraverso le leggi il problema si risolve attraverso la promozione di una nuova cultura dell'accompagnamento che non ti lascia più solo mai questo è il problema la tragedia della società contemporanea è la solitudine e la solitudine fa più paura della morte se poi c'è pure il dolore peggio mi sento e allora ti autoconvinci che devi andare via perché la vita è insopportabile ma non è la vita insopportabile è insopportabile la solitudine è insopportabile l'abbandono è insopportabile il merefreghismo che gira intorno ecco perché io il Parlamento faccia tutte le leggi che vuole non importa io qui poi dico che forse bisogna farla però quello che io sento più urgente è recuperare o comunque reinventare l'arte del tenersi per mano dall'inizio fino alla fine io vorrei vivere e morire così ecco perché una tra virgolette eccessiva ospedalizzazione mia mamma io l'ho riportata a casa quando ho capito che non c'era è morta nel suo letto io stavo lì nel suo letto e gli dice mamma pensa te io 70 anni fa stavo qui nascevo proprio qui dove stai tu allora si ricomprende che cosa vuol dire la dignità della vita la dignità dell'amore la dignità del rapporto la dignità del tenersi per mano e anche se sei debolissimo tu sei degno non perché non hai forze sei degno perché io ti voglio bene e viceversa ecco in questo senso la parola dignità io la leggo a questa reinvenzione della prossimità la reinvenzione di un rapporto solidale che chi è di queste parti io sono della provincia di Frosinone quindi un po' ci intendiamo quando la morte non era un siparietto in ospedale il silenzio di tutti il non sapere cosa dire la morte coinvolgeva la comunitas e questo portava comprensione consolazione faceva capire che la morte anche fa parte della vita sebbene ma qui poi c'è un altro discorso che è sempre anche una nemica ma parte tutto questo però rientrava in una cultura per cui anche i bambini potevano comprenderla e non avveniva la bestemmia di dire se muore un bambino piccolo vuol dire che al padre eterno gli serviva un angioletto e se l'è preso ma che siamo pazzi io un padre eterno così non lo voglio ecco in questo senso la cultura dell'accompagnamento fino alla fine è ciò di cui c'è bisogno non solo nel nostro paese ma in Europa e ovunque purtroppo il virus della solitudine e quindi dell'abbandono sta infettando il mondo intero e l'abbandono poi diventa abbandono di tutti anche nostro e a me non me la c'è un altro tema che viene toccato all'interno del libro che è un po' quello del del percorso storico di come abbiamo inteso la morte e qui diciamo che in qualche modo abbiamo un po' da apprendere dalle dalle generazioni che ci hanno preceduto il libro si chiama proprio sorella morte che è un po' diciamo un titolo che fa un po' scandalo perché come sorella morte uno si aspetta appunto un qualcosa di diverso rispetto alla morte invece questo concetto di sorellanza anche qui di accompagno di si direbbe di discernimento che in fin dei conti la morte è parte integrante della vita stessa ed è forse uno dei segmenti più difficili anche se vogliamo più affascinanti il mondo letterario il mondo filosofico non solo religioso insomma ha discusso per decenni in modo ampio oggi invece in realtà anche la morte sembra come dire accompagnata da quella cultura dello scarto di cui Papa Francesco ci ha benedotto sempre insomma ci ha sempre messo in guardia allora precisiamo una cosa il titolo non l'ho messo io il titolo l'ha messo l'editore perché sennò la morte porta sfiga e nessuno compra il libro questa era la sostanza però poi io ho capito ho letto dentro questo titolo che tra l'altro in tedesco la morte è maschile quindi chiama fratella fratello morte in italiano femminile io l'ho compreso come una vittoria della fraternità anche sulla nemica morte la morte è sempre nemica quindi non è mai volontà di Dio Dio non ha creato la morte leggete la Bibbia trovate nei giorni sei giorni della creazione se a un certo punto si scrive e Dio creò la morte non c'è la morte è entrata dopo e Dio si è a tal punto incavolato che conoscendo la nostra pochezza la nostra vendetta a chi aveva ucciso Caino che gli ha detto nessuno tocchi Caino adesso non il Padre Eterno quando all'origine i due scelsero il serpente e non Dio perché è lì l'origine il nemico il principe della divisione l'invidioso per eccellenza e talvolta è ciascuno di noi quando si crede ad essere il Padre Eterno quando i due vanno via dal paradiso che non è Dio che li caccia no mentre stanno uscendo si rivolge al serpente e gli dice tu striscerai per sempre e poi dice alla donna non all'uomo e per me qui ci sarebbe da riflettere non all'uomo dice alla donna o meglio dice al serpente rivolgendosi alla donna e una donna il suo seme ti schiacceranno il capo cioè ti vinceranno c'è nella donna e nella maternità una profezia di vita a me è sempre impressionato vado un po' per la tangente ma mi ha sempre impressionato quando i nazisti vicino a Bologna per razzia contro i partigiani uccisero le donne incinte era come se volessero colpire quell'affermazione di Dio mettendosi dalla parte del serpente uccidere uccidere la vita il padre di Dio si commosse e fece un vestito ad Adam e Deva le famose foglie non per non far vedere i genitali era un vestito perché non soffrissero nel freddo della storia e Dio da allora ha combattuto la morte sempre non si è mai rassegnato ad essa ed ecco perché Gesù non voleva morire e sulla croce prima gli disse ma non possiamo trovare un'altra strada allontanata da me questo calice e poi gli disse perché mi hai abbandonato però alla fine comunque siccome so che mi vuoi bene mi affido a te nelle tue mani questo tenersi per mano che è più forte della morte ecco perché allora Francesco D'Assisi torno al titolo che aveva chiamato fratello il sole sorella la luna che aveva chiamato fratello anche il lupo di Gubbio che non era un animale il lupo era un brigante che ammazzava gli altri e San Francesco chiamò fratello anche lui come per svuotarlo della inimicizia Francesco aveva già scritto il cantico delle creature negli ultimi giorni steso per terra quando vede avvicinarsi l'ultima delle creature la morte la chiama sorella per toglierle il pungiglione per toglierle la disperazione per toglierle il potere ecco perché allora nell'esperienza cristiana ed io vi confido che quando mi sono messo a scrivere io avrei dovuto scrivere 20 cartelle contro il tema dell'eutanasia eccetera ma quando mi sono messo a scrivere mi sono trovato per un certo verso come diciamo prima nel silenzio ma per un altro verso una letteratura ricchissima sterminata che io ho un po' raccolto per dire a tutti noi attenzione a recidere dal passato andiamo alle sorgenti e cogliamo la sapienza che c'è e come cristiano io ho dovuto rivedere molte cose della mia fede che nel libro io riscrivo ridico cerco di ripensare e riproporle perché siano vere e non vecchie e che magari suonano come una musica di un disco rotto a cui non diamo più ascolto poi semmai qualcosa lo dirò però non c'è dubbio che confrontarsi con questo patrimonio ricchissimo ci aiuta a ritrovare le parole e a ridirle e per me è stato indispensabile questo esercizio di ritradurre nell'oggi questi temi di cui più nessuno parla e che noi mettiamo sotto la sabbia ma che in realtà sono temi importanti perché capire o meglio aiutare la morte e la vita significa essere più consapevoli della forza dell'amore e del legame che deve esserci tra noi un'ultima battuta prima di passare alla premiazione c'è un tema all'interno del libro che è un po' un tema su cui spesso ci facciamo i conti che si riaggancia un po' alla solitudine all'inizio ovvero la nostra pretesa di autosufficienza questo secondo me forse è il nodo il centro del problema dell'uomo contemporaneo che poi non è neanche più contemporaneo ma è postmoderno ecco la pretesa di autosufficienza quanto in realtà genera questo circolo vizioso del diciamo della solitudine del credersi utili sì qui c'è un problema enorme perché la tentazione dell'autosufficienza che prima potevamo chiamare egoismo ce l'abbiamo tutti ognuno di noi quando si sveglia pensa agli affari propri e non gli è istintivo di pensare agli altri tutti cominciando dal Papa oggi questo egoismo ha come acquisito delle valenze nuove più radicali e cioè un mio amico sociologo cioè o meglio l'io è diventato come dire il vero re dell'universo tutto deve girare attorno a me quindi non c'è solo l'egoismo di chi pensa a sé qui l'egoismo vuole che tutto il resto la società le istituzioni lo Stato la famiglia la Chiesa devono inchinarsi ai miei individuali interessi questa come dire patologia dell'individualismo è ovvio che porta all'autosufficienza per definizione ma qui ci scontriamo con i nostri limiti che però noi nascondiamo questa Giuseppe Derita un sociologo che tutti forse conosciamo parla di egolatria il culto divino dell'io e su questo altare si brucia tutto anche gli affetti più cari i famosi femminicidi che continuano a farsi sono tutti frutti di questa egolatria sul mio io ammazzo pure lei che non ce lo sta in questo senso questo individualismo esasperato sta portando come dire la nostra società ad una sorta di iper individualismo se poi si sposa con la tecnica ecco allora noi possiamo dire che con la tecnica posso vincere le malattie posso modificare il genoma posso diventare davvero un padre eterno tanto che cominciano a uscire volumi dove si è scritto oggi la morte può essere vinta possiamo diventare immortali non so i 120 anni di qualche politico qui arriviamo pure di più anzi togliamo pure i limiti ora questa pretesa di autosufficienza in realtà si scontra con con la nostra con il nostro limite e allora anche la libertà se la libertà la leghiamo alla pretesa dell'autosufficienza diventa micidiale diventa terribile perché noi ci incastriamo dentro noi stessi impedendoci il consiglio il rapporto e l'amore degli altri questo è il problema l'autosufficienza che noi abbiamo messo sull'altare è crudele primo perché nessuno di noi è autosufficiente anche se camminiamo eccetera poi man mano andiamo avanti negli anni lo diventeremo sempre meno per forza quindi veniamo buttati a mare in questo senso l'autosufficienza è una tentazione radicale cioè terribile da questo punto di vista io invece mi auguro che finalmente ognuno di noi possa dire quanto è bello dipendere da te perché so che mi ami certo se non c'è l'amore è un altro discorso ma senza l'amore l'autosufficienza è già una condanna in questo ripeto il tema del consiglio del rapporto dell'aiuto anche dialettico eh anche dialettico quindi anche le litigade sono indispensabili proprio per creare un corpo fraterno che va da me e te fino alla famiglia dei popoli la rottura di questo allora porta certo se si rompe la fiducia è chiaro che Trump dirà America first e che me frega degli altri ma lo diciamo già noi io sono l'unico perché autosufficienza vuol dire che io sono io e poi l'unico e io scherzando dico siamo diventati tutti inglesi sapete l'unica lingua dove io hai è scritto maiuscolo dobbiamo riprendere un po' il minuscolo questo grazie grazie a Don Vincenzo Paglia io chiamo sul palco Pino Pisicchio presidente del gruppo misto della Camera dei Deputati e il sindaco di Latina Damiano Coletta allora io non vedo niente perché siamo tipo al festival di Sanremo abbiamo dei fari molto molto grandi ecco però vedo due figure che si apprestano qui alla nostra nostra ecco mi raccomando lo scalino che è pericolosissimo allora 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 io do la parola un secondo al sindaco che insomma ci è tornato a salutare quindi grazie per questo nuovo diciamo appuntamento sì grazie grazie a voi e complimenti a Monsignor Paglia la sua è stata una lezione di vita ecco ho apprezzato molto le sue parole le sue considerazioni anche perché poi riflettevo per dare anche un contributo personale io nella mia lo dicevo prima con l'onorevole Pisicchio nella mia seconda vita facevo il cardiologo quindi ho avuto a che fare con la malattia e la morte effettivamente insomma questa intanto mi sono ritrovato tanto in alcune sue considerazioni perché proprio nella mia professione mi sono sempre ripetuto una frase che un medico non deve dare più vita cioè non deve dare più anni alla vita ma deve dare più vita agli anni e poi ecco questo questo concetto della morte ma anche della malattia se vuole insomma anche come cultura italiana abbiamo fatto un po' fatica anche rispetto all'accettazione della malattia anche ad esempio il tumore è sempre stato considerato il brutto male mentre invece magari in Europa su questo sono andati un po' più avanti e il discorso della morte della solitudine della morte effettivamente merita grandi riflessioni la ringrazio per questo suo contributo anche io voglio ringraziare Monsignor Paglia perché ci conduce attraverso un percorso che ha un'altissima cifra teologica ma ci conduce attraverso un impatto un approccio umano assolutamente umano quando a catechismo ci raccontavano che la grande differenza tra il vecchio e il nuovo testamento era nella dimensione dell'amore l'amore puro che veniva instillato all'interno del nuovo testamento per cui il vecchio testamento per chi lo leggeva insomma con una con un occhio anche ingenuo rappresentava un quadro quasi terrificante perché un dio arrabbiato sempre sempre pronto a cacciare a punire a fare delle cose terribili arrivava il nuovo testamento e c'era la parola dell'amore ecco ha dato voce concreta dimensione concreta alla parola dell'amore ma lo fa anche lasciatemelo dire nel percorso quotidiano in una quotidianità che è umanissima quindi io vorrei ringraziare davvero Monsignor Paglia per l'aspetto umano che c'è nella sua teologia e che ci rende molto più più vicini molto più attenti molto più intranei nello straordinario grandissimo io sono un cattolico e perdonatemi parlo per me ma nella grandissima verità che è la religione cattolica grazie grazie diciamo che il premio Enea ha un bel nome proprio per questa diciamo perché forse è il primo eroe mitologico ad essere un migrante quindi è anche un premio che ha due vesti ecco c'era pure Anchise c'era anche Anchise sulle spalle e quindi no io ringrazio di cuore caro sindaco lei ha perfettamente ragione dobbiamo mandare sempre vita e amore poi lei come cardiologo diciamo uniamo queste due dimensioni e gradisco anche molto le le parole di del senatore Pisicchio perché è ancora deputato deputato è un po' problematico la politica di questi tempi però va bene no però quello che ha detto comunque è da senatore quello che ha detto perché davvero perché davvero diciamo la mia passione è quella di tradurre in umanità e per questo anche parlando qui in riva al mare del premio Enea ecco la passione per aiutare è quello che per esempio alla comunità di Sant'Egidio è venuta in mente di fronte ad una rassegnazione o becera o sciocca rispetto a questa grande fenomeno drammatico dell'emigrazione di inventare i corridoi umanitari è una piccola cosa però noi abbiamo pensato che non era possibile non far nulla non era possibile semplicemente chiudere o sbattere via ecco l'amore crea l'amore è creativo in questo senso diciamo la l'esperienza cristiana che io vorrei definire non è cioè non è proprio una religione il cristianesimo è di più il cristianesimo è un'energia d'amore che penetra tutto che non lascia fuori nessuno che non scarta mai nessuno ecco perché Enea che si prende sulle spalle anch'ise io vorrei che oggi questa nostra Europa deve ritrovare le grandi o il Mediterraneo va deve ritrovare quelle grandi energie per prendere sulle spalle un mondo che fa fatica a vivere grazie di questo premio grazie Monsignor Vincenzo Paglia grazie a Pino Pisicchio grande al sindaco di Latina Damiano Coletta grazie 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 a tutti